Questo è Nest Audio di Google, il nuovo smart speaker con un sound incredibile. Ehi Google, metti la mia playlist funky. Puoi abbinarne due per un effetto stereo e trasferire la tua musica da una stanza all'altra con lo smartphone. In soggiorno, in camera. E anche qui, Nest Audio di Google, un suono straordinario al tuo comando.